Terza giornata del campionato di seconda categoria e prima vittoria stagionale per la squadra nicosiana della Vigneta, i ragazzi di Saretto Burafato espugnano il Gaeta di Enna battendo per 1-0 la locale polisportiva Trinacria. Il gol Lampo è stato segnato dopo pochi minuti dall'inizio del primo tempo da Eugenio Castro Giovanni. Per tutto l'incontro gli ennesi hanno tentato di pareggiare, ma i coraggiosi gialloblu di Nicosia hanno saputo resistere fino alla fine, addirittura sfiorando il doppio vantaggio, quando al settantesimo Antonio Buonaiuto sbagliava un penalty. Si sblocca la squadra del presente maggio che con questo risultato si porta a quata 4 punti e domenica alle ore 14.30 allo Stefano Lamotta arrivano i rossoneri della Branciforti di Leonforte. Un derby che si preannuncia combattuto e che con il risultato ottenuto oggi sarà senz'altro molto interessante da seguire per i tifosi nicosiani. Grazie a tutti.